E' una discussione delle facce, sembra una faccia fatta bene, tanto kg di vento Rapportiamo i centivi passetteri che il treno regionale 33 015 Il treno regionale 33 015 diretto a Alessandria partirà tra pochi minuti E i quali accompagnatori sono pregati di scendere al più presto Che cosa è un carico, che cosa è un carico E' un carico, che cosa è un carico Per cui la faremo in questo senso, e tu la faremo in questo senso E tu non scenderemo in questo senso E quindi ti ha detto che sono qui Our home to the home, relaxes, not in the city. So we have all the other places to walk us, and we find that you must have a breath, and you see what they're doing, and I have to tour with you. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti